Siamo con Marco Montrone, Battiti Live a Biceglie, una data scelta all'ultimo momento, però possiamo ritenerci soddisfatti sia i bicegliesi e sia anche Radio Norba per come sono andate le cose. Siamo molto contenti di essere qua, possiamo dire di sentirci un po' a casa perché sono tanti anni che con Biceglie abbiamo questo rapporto speciale. Biceglie è una città che ci ha accolta sempre con grandissimo entusiasmo, l'ha fatto anche quest'anno grazie alla prontezza dell'amministrazione che ha avuto la possibilità di cogliere un'occasione che si era creata all'ultimo momento. Per noi è stato un piacere tornare qua e ringraziamo Biceglie perché organizzare Battiti Live in poche settimane non è un'impresa semplice. Lo abbiamo fatto, l'abbiamo fatto insieme con grande partecipazione, con grande collaborazione e abbiamo regalato una serata di grande spettacolo in un giorno speciale per Biceglie, che è la giornata della festa patronale dei Santi Patroni. Noi siamo contenti di essere qua, di aver portato il nostro spettacolo a Biceglie, la nostra musica italiana, internazionale e da quello che vedo Biceglie ha risposto nel migliore dei modi. Oltre alla risposta di Biceglie c'è da dire che Radio Norba continua la sua mission di radio che si afferma nell'Italia meridionale. È sempre più una solida realtà radiofonica, favorita forse anche dall'approdo televisivo su un canale di Sky, delle proprie trasmissioni con i TG Norba e anche di Radio Norba Television, che permettendo adesso al pubblico di guardare chi va in onda e chi di solito era invece conosciuto soltanto per voce, comunque contribuisce a un contatto più diretto. Assolutamente, noi siamo molto molto contenti, abbiamo chiuso l'anno passato con un 24% di incremento e con orgoglio posso dire che siamo la radio italiana che è cresciuta di più sull'anno. Questo risultato l'abbiamo ottenuto anche grazie a Radio Norba Television senza dubbio che ha completato la nostra offerta. Adesso abbiamo una radio e una tv che viaggiano in parallelo e sono molto contento perché l'esperimento è riuscito al 100%. Abbiamo sfatato il mistero radiofonico, l'abbiamo fatto con grande capacità dei nostri conduttori di approcciare il mezzo televisivo senza però perdere i canoni radiofonici che continuano a guidare il nostro lavoro ogni giorno. Grazie. Grazie.